Cazzo Voi non potete neanche capire quanti aggiornamenti sono stati fatti su Warframe E noi non vi abbiamo più mostrato niente Cazzo due volte Sono di nuovo con sentenza e oramai Cazzo Non mi presento neanche più Che tanto sono sempre io e oramai mi conoscete Siamo tornati su Warframe Io sto un po' come indeficiente sulla navicella Dai passiamo Sì sì vai vai Abbiamo attivato una nuova missione Dobbiamo scoprire informazioni su una nuova arma chimica in possesso dei Grineer Quindi andiamo a trovare Non sappiamo nulla Si chiama proprio trova informazioni sull'arma chimica Mercurio Wow Ma che Bel nome per una missione Ma la vedi la navicella che è persa? No Da me è diversa No Sempre uguale Sono un ninja Da davanti Ah da davanti Sì adesso sì ma è partito il caricamento sto secondo Che cazzo è quel coso? Furis Winds of Two C'era stato l'aggiornamento dei syndicate Sindacati li volevo chiamare Mi pare un po' Vabbè chiamiamoli syndicate E sono praticamente delle fazioni a cui potete aderire E ogni fazione ha un alleato e un nemico Però ancora io non sono entrato niente Te c'hai qualche fazione? Si io già sono arrivato a livello della prima Non mi ricordo come si chiama No vabbè ma sei uno stronzo Oh ciao Sendenza con Ron Il suo nuovo tenno Warframe Chiamate l'uomo cazzo Però sei brutto Potevi cambiare il colore No l'ho cambiato No no sei veramente brutto come l'originale Ma vaffanculo è bellissimo Non è il stile Sei un cervo cornuto Vaffanculo la mi cambia anche Ah perché l'altra testa È ancora più cornuta Sì sì me la ricordo Siamo su Mercurio E io zompetto come un ninja felice Allora Aspetta che c'ho un problema Rai con cazzo e ammazzo tu Ok Il problema è che c'ho il joystick attaccato sul case E quando attaccavo vibrava tutto il case Allora Oh sbuzzo sempre come una volta No io devo dire lo ho due o tre Ah ok Sono pippa Distruggeteli Il dottor Tango esige la massima segretezza Ma io te scoppio casa Credo che dovremmo Che da Oh mio dio Cali di FPS Ma è la solita missione Di prenderevo l'ingezza Oh che palle Oh Informazione Che cazzo sta io Sto finendo la missione Ma dai mi ha abbandonato Io sto qui a far coglione Mamma mia Quanto scatta ogni tanto Anzi devo dire che comunque Warframe Sembra pesante Mi sembra abbastanza leggero Sì no sono io stronzo che tengo tutto Altissimo No io ho messo tutto a tipo Minecraft Sentenza Gioco a Warframe pixeloso C'è qualcuno Eh vaffanculo Quello faceva male Tranquillo Ho sentito un marshmallow a ferragosto Ho attivato la fuda Marshmallow a ferragosto Che brutta cosa Crepa mostro Forse ho sbagliato il gioco e film Allora Sì Oh pure sti cazzo di mutanti Ciao bello L'ho squartato Che dovremmo fare Ci sono altri due terminali Eh sì Cazzo non me lo ricordavo così figo Ah ancora non ho usato manco un'abilità Ah ma adesso l'abilità ce l'avevamo tutte È vero E non ho ancora più modo Ci sono stati veramente in sacco di aggiornamenti Tutte sbloccate No io tipo la Tutti mi stanno alla posta usata Ah è vero Perché ti aumentano poi Oh non mi abbandonare per strada Ma cammina tu sei lento Sei un bicho e sei lento Ah sì aspetta No non mi posso Aspetta Tu cazzo vai Aspettami Aspetta un attimo Voglio provare una cosa Va bene Va davanti a quel Le casse No fatte vedere però No lo posso usare solo su un nemico Vabbè dopo te farò vedere Comunque la tempesta De Shuriken è bellissima All'ultimate De sto tizio Io faccio le top Vedete Vai Fammi vedere sto persiano È un po' Traspadente Quanto costa una cosa del genere? Quasi quasi Me lo pio per casa 50 monetine Di front Ah ok È pure economico Dai Arrivo eh Sarà un attimo Un po' tassato Guarda bello eh Ma perché ci sono Di Eccola là Bam Eh l'ultima Ma qui che cazzo è? Che cazzo è? Che era tipo Un moa Un po' Ossessato? Oh Oh cazzo Ma che cazzo sono ste cose? Oh Le zanzari Cazzo è inverno però Allora Do cazzo stai? Merda Cercò di ripugire le zanzari Che dobbiamo fare? Sopra 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 Oh cani 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 Ok Ok ho sblocato le poste Ah spero me so perso Me so perso Vieni dove c'è il terminale dati Eeeh Non qui L'unica cosa dancione della map Ok Devi salì Eeeh Arrivo 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 Ok Ok l'ho trovato Oh una moto Inutile Si l'avevo trovata Cos'è sto due moto? Oh Ma che cazzo so Via Ma non l'ho capito Ma che schifo è sta roba Ma dai le zanzare è dicembre Oh E questo dietro Porca puttana Si è fatto esplode Andiamo Andiamo Let's go Let's go Dovrebbe essere una vatma chimica Dopo a potente Secondo me è una pippa Oh c'è chi? Ma cazzo non c'ho più energia per l'ultimate Ma è possibile che ancora non ci avemo un'aura per l'energia noi? No non ci ruotero io Madonna sei inutile se non cazzo è Ma mappa cu Ma mappa cu Ma mappa cu C'è più Pa 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 Ci sto capi in cazzo Allora Dove è monna? Dritto per dritto Verso l'infinito e oltre Ok quello è morto Maledetti estetini Io proseguo alla velocità della luce Ah questo non l'avevi visto Il 3 è un teletrasporto Che backstabba praticamente A coltella da dietro Ah Oh ma siamo arrivati Aspetta aspetta L'invisibilità più lunga del mondo Oh cazzo dura adesso però Non ho ricordato più questo Ah più sale di livello Aspetta e ti tiro uno shuriken nel muso Bam Aspetta che ti curo va Ah quella è la cura? Sì Che cazzo me stai a tirare? Eh vatti i Tipo datetti Guarda Vabbè Missione completata Prima vittoria della giornata Match wow Ci ha dato un cazzo Che era stasera per arma? Ma penso sia non le tante Ah quello schifo lì dici? Eh penso proprio di sì Può essere? Che strano vedere la navicella Sì davvero Era quasi meglio da dietro Se sa che pare Leggi Leggi Che leggo Però che dice Lotus Ah aspetta ancora devo Abbiamo una nuova emergenza per le mani Altri infested Raggiungi il nodo che ho evidenziato Su l'autoconsole di navigazione Ok credo che questo lo faremo off screen O comunque in un altro episodio Sì sì Dai comunque So soddisfatto Sa stupdate So carini Mostramo Un altro paio le stronzate Almeno Lo facciamo vedere un attimo tutto Allora L'aggiornamento prima di questo Era stato sulle ali Si chiamano Archwing Giusto? Sì Correggimi se sbaglio Ok E parevo tipo Il papa C'hai presente quando ha fatto il discorso Dal bloc Correggimi Vabbè guarda Allora Le Archwing sono queste ali qua Che ti permettono di fare Delle missioni nello spazio Te l'hai provata qualcuna giusto? Sì io ce le ho da un po' Ok no io invece sono schifo Che ho smesso di giocare così E non ho fatto E mi ha lasciato da strada Sentenza abbandonato Comunque Quelle sono le ali E poi se riesco a craftarle Cerco di mostrarvele Speriamo Mentre questo Non quello Aspettate ve lo mostro per bene Warframe Mesa Mesa Come cazzo si chiama? Mesa Mesa Ok No è Mesa Mesa Questo è il nuovo Warframe Che è stato inserito con l'ultima patch Appunto il Mesa Update Secondo me ci trollano Sarà che tipo Mesa Update Forza è un update Boh non lo so E vabbè Teorie Questa cosa è pasta Complotti Allora con una mano ferma I riflessi pronti Mesa È una vera pistola È una donna È una donna? È una vera pistolera Ah Tutte donne Stanno uscendo Ma che cazzo? Ma non c'ha manco Vabbè C'ho più tette C'ho più tette io Ti ho fatto male Cioè stai a scherzare Cioè stai a scherzare One shot e boss Si Cazzo Vabbè ma avrà una dudata breve Tipo per 10 secondi Accumuli E poi Ma spero Shutter shield Non me lo fa leggere Perché non compare la finestrella Conciliatore manco Tiro a segno Aspetta Te lo leggo io Aspetta Cerco di rientrare Vediamo Allora Ok Shutter shield Envelopes Mesa In a barri Rov energy Traduzione fantastica In a barri Rov energy Reflecting back Incoming bullet damage Praticamente Mesa si ricopre di uno scudo Che respinge il danno Dei proiettili Che le arrivano addosso Tutte le volte Tocca entrare E riusci Per leggere queste cose È fatto benissimo Tiro a segno Da un danno alleato Extra Mentre disturbo I cannoni di nemici Nelle vicinanze Questo potere Si sposta tra i membri Del team Va bene Power up Del team Ok Tradotto come Lasciamo perdere Pure questo Conciliatore La quarta abilità Con grande concentrazione Mesa estrae le sue pistole Regulator E spara i suoi avversari In rapida successione Secondo me È molto fica Sì Ma è cadina Però non Vuole scoprire come si crea Sì Eh Magari se ci riusciamo Lo mostriamo Poi anche quello E va bene Le stronzate Le abbiamo fatte Eeeh Non lo so Forse riabbandonerò sentenza Per qualche mese Su Warframe Adesso che c'è Nooo No dai Cerchiamo No dai cerchiamo De faccia di video Però Voglio Portarlo avanti Perché Quash Me sta a rompere il cazzo Eeeh Cerchiamo di mostrarvi Qualcosa di nuovo Tra le Archwing E Mesa Speriamo Direi Che è tutto Un saluto Da Esid Da Sessenta Ah Ogni tanto si ricorda A salutare però Dai Che dolce Sono concentrato A saltate Si io pure sto Fasso giù Dalla scala Come un coglione Eeeh E di te Va bene Ci vediamo alla prossima Ragazzuoli Ciao 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 Ciao